Buongiorno dalla datazione di Florence Multimedia, in studio Agnese Fedeli. Il traffico al momento regolare su strade e autostrade della Toscana. Incipili i possibili disagi per lavori all'altezza del turbone tra Montelupo e Ginestra nelle due direzioni. Ci spostiamo sulla statale 330 dove troviamo chiusura in località Albiano Magra nel comune di Aulla, provincia di Massa a causa del crollo del ponte sul fiume Magra. Deviazioni in loco. Prima di salutarci informiamo che da domani 4 maggio si entra nella cosiddetta fase 2 dell'emergenza sanitaria coronavirus. A Firenze e in tutta la Toscana tornano potenziati i servizi ferroviari e il trasporto pubblico locale. Siamo presente che per utilizzare i mezzi pubblici è obbligatorio indossare guanti e mascherina. Alle fermate della tramvia inoltre è stata predisposta apposita segnaletica per separare i flussi in entrata e in uscita. Moversi in Toscana Infi è un servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio!